Presidente Fissolo, una cena questa sera per tante persone che fanno parte dello staff e che danno sempre una mano alla società durante l'anno? Sì, come dico sempre, tutti i nostri aiuti, i nostri volontari sono davvero la nostra ricchezza. Abbiamo organizzato questa cena per dire grazie, che è poco, però spero che faccia piacere, alle tante persone che ci danno una mano durante la stagione, per esempio a montare il Taraflex, che è un lavoro solitamente notturno, impegnativo e lungo, a tutte le persone che ci aiutano anche al di fuori, quindi nella gestione della gara, in biglietteria, gestire le tribunette VIP, ai fotografi, allo speaker, gli speaker, insomma tante persone che ci aiutano per portare avanti le stagioni che sono sempre impegnative, quindi un momento conviviale per fare un brindisi insieme. Durante l'anno poi queste persone che hai nominato si vedono effettivamente poi poco, tutti quelli che stanno dietro le quinte per permettere poi lo spettacolo alla cittadina di seguire comunque la propria squadra in giro per il territorio nazionale. Sì, assolutamente, anzi meriterebbero sempre molto più visibilità, purtroppo non è possibile, ma sono veramente le fondamenta, le persone importanti che stanno dietro le quinte e ci permettono di poter svolgere un campionato così importante ed emozionante come quello della Serie A. Anche il coach Gazzotti adesso uscirà all'intervista poi questa settimana sul nostro giornale, ha definito la società moregalese come assolutamente anche molto familiare, quindi fin da subito è entrata in modalità rosso-blu, è bello che traspaia anche questo mercato laddove insomma comunque atleti e membri dello staff arrivano poi da fuori. Sì, tra l'altro siamo subito entrati davvero molto in sintonia per questi e altri motivi insieme a lui e insieme a tutti gli atleti che abbiamo già avuto modo di conoscere, almeno telefonicamente. Sì, c'è questo aspetto molto amichevole, conviviale, insomma noi alla fine stiamo bene insieme, stiamo bene insieme e star bene, condividere delle passioni con tante altre persone che hanno la tua stessa passione porta a risultati importanti. Grazie Presidente Fissolo. Grazie a tutti voi e buon'estate. Grazie a tutti.